In questi giorni il Corpo di Polizia Locale di Rivalta di Torino ha attivato un servizio di videosorveglianza al fine di controllare i luoghi maggiormente soggetti ad abbandono di rifiuti e individuare gli autori di questi abbandoni. Questo fenomeno purtroppo è molto diffuso anche nella città di Rivalta di Torino a seguito anche delle innumerevoli segnalazioni che prendiamo dalla cittadinanza e che ringraziamo. Questi abbandoni purtroppo costituiscono un danno sia ambientale sia un costo per la collettività in quanto per essere smaltiti questi rifiuti spesso che sono rifiuti pericolosi bisogna attivare dei servizi specifici che sono molto costosi. Con questi brevi video vi mostriamo alcuni dei reati che abbiamo colto in queste settimane con questa apparecchiatura di videosorveglianza dal semplice abbandono dei sacchetti di rifiuti fino all'incendio di un veicolo. Grazie a tutti.